Mentre il Parlamento si divide sul nuovo decreto sicurezza per l'arrivo di immigrati da Salerno, la storia di una mamma nigeriana e di suoi due bimbi commuove e mette in moto, è davvero il caso di dirlo, la sezione motociclisti dei caschi bianchi di Salerno. Osawa, questo il nome della giovane nigeriana 24enne, ha trovato accoglienza presso la casa L'Albero della Vita a Castiglione del Genovesi con i suoi due bimbi, Anna, una femminuccia di 4 anni ed un bimbo di 11 mesi, Daniel, dopo aver chiesti e ottenuto aiuto dalla sezione motociclisti dei vigili urbani di Salerno. I due agenti che si sono trovati davanti la mamma proveniente da Bologna e gli occhi grandi e spauriti dei suoi due piccoli bimbi non hanno esitato un attimo a mettersi in moto per prestare tutto il loro aiuto alla piccola famiglia sfortunata alla ricerca di un tetto dove trovare riparo. Una capanna per Natale di questa natività tutta tipica dei giorni nostri con una storia di solidarietà che va oltre il normale senso di dovere dei due agenti che si sono prodigati affinché la mamma e i suoi piccoli trovassero subito un riparo. Dopo aver attivato i servizi sociali ed informato il Tribunale per i diritti dei minori, i caschi bianchi si sono occupati di tutto il percorso anche relativo ai controlli sanitari compresi i tamponi accompagnando la giovane mamma allusca. Ora sarà la casa di accoglienza, l'albero della vita, a dare un letto e un riparo a questa famiglia che ha riempito di speranza e di un valore umano questo strano assurdo Natale 2020.